vai luca! vai luca! vai luca! luca è rosso eh ma così qui rimane bravo! ehi luca! i pugni! vai in mezzo! vai luca! gira! centro! bravo! vai in mezzo! centro! va troppo a fare le proiezioni occhial'uscita! non fuori! tira luca! prendilo! bella! centro! bravo! dovremmo andare meno sulle proiezioni gira luca! vai in mezzo! bello! guardiamo! c'è il sapore che non è andato c'è il sapore che vuoi dati! centro! centro! gira! bella! uhhhh ma al pelo! stai in mezzo luca! bravo Luca vai Luca anche bravo l'altro buono centro bravo Luca bravo armi di fronte su rosso 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 bravo 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 Centro! Puta fuori! Stai dentro! Bravo! Vai bene Luca! Dai Luca! Spingi! Cazzo! Ma ormai esce tu! E ormai esce, sentici tu! Vai! Bravo! Perché fa così tante proiezioni? Ehi Luca! Per divertire il pubblico! Quanto mancano? Non lo state con le tranne! Oh no! 1.22! Bravo! Bravo! E... E... Vittoria! Un minuto e mezzo! Un minuto e mezzo! Un minuto e mezzo! Un minuto e mezzo! Dite io! Dite io! Dite io! Dite io! Un minuto e mezzo! Un minuto e mezzo! Andiamo andiamo! Controlla Luca! Controlla! Stai in mezzo! Tira! E' finito! Stiamo dicendo l'ultimo cosa male che è! Fai che vuoi! Bravo! Fai quello che vuoi! Cazzo se la cava! Dai dai! Fiii! Ma no! Dovrebbe essere finita! Cioè... Balla! Perché lui stoppa! Fiii! Grado! Ok! Completa rosso! Bravo Luca! Bravo! 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 Bravo!